Francesca Izzo, io vorrei portare questi discorsi dai macrosistemi qui analizzati sul terreno delle idee e soprattutto del sentire e del raccontare. Il rapporto fra famiglie e società è stato qui raccontato in questi anni nel rapporto tra di qua i diritti, di là la famiglia. Ma questa narrazione non è stata un po' una sorta di amnesia su qualcosa che stava sotto cambiando e che nessuna delle narrazioni è riuscita a cogliere? Ebbè, è proprio così. Io, dato che il tempo è breve, farò delle affermazioni piuttosto secche, senza argomentare come sarebbe necessario. L'oscillazione a cui abbiamo assistito e continuiamo ad assistere tra una proliferazione dei diritti che è arrivata ad intervenire fino in quell'ambito che ha a che fare con la vita e dall'altra parte, e questo da parte delle culture progressiste, cioè la cultura dei diritti è stata quella che per quanto riguarda le culture progressiste intese nella loro accezione più ampia è stata la leva con cui si è affrontati i cambiamenti che sono avvenuti in questi anni molto profondi. Dall'altra parte, da parte delle culture popolari, cattoliche, c'è stato, certo, anche qui una difesa dei diritti, ma con un desiderio di conservare la famiglia come nucleo di società meta-individuale, sovra-individuale. Bene, questo tipo di posizioni, di culture, di modo di affrontare, sono assolutamente, io lo dico così in maniera brutale, inadeguate a vedere e a comprendere e quindi a rispondere a quello che è stato ed è un cambiamento di sistema, di ordine. Il fatto che le donne, io nomino finalmente questo nome che anche nell'intervento prima del professor De Tuan non è stato fatto, si parla di calo demografico, di famiglie e non si nominano le donne. Eh sì, allora lo fa, no, no, non è così, bisogna parlarne tutti, perché si tratta di una questione di ordine, è un ordine, un sistema che è finito, che è crollato. Quando alle donne in tutto l'Occidente, nel corso di questi ultimi 50-60 anni, le donne l'hanno conquistato, non è stato donato, sono uscite dalla spera domestica, è finita la famiglia, non dico tradizionale, ma la famiglia costitutiva della modernità, quella che, appunto, anche i titoli oggi che sono anche stato dato a questo nostro incontro, cioè lo Stato, la famiglia e l'economia, cioè quella struttura che forma nell'insieme lo Stato allargato. Bene, in quell'ordine lì c'era una distinzione funzionale, alle donne che rimanevano nella casa, era affidato il compito della riproduzione della vita, agli uomini nella sfera pubblica e sociale dovevano occuparsi della produzione, in tutte le sue forme. Quest'ordine è finito. Le donne sono uscite dalla segregazione domestica, sono in tutta la società, ma un altro ordine non è stato creato. Il calo della natalità è uno dei segni più clamorosi del fatto che le donne, e chiaramente l'insieme della società, vive un disagio profondissimo. Alle donne non è data la libertà di essere pienamente se stesse, le donne devono scegliere, sono costrette a scegliere o la creatività nella sfera della vita sociale, pubblica, oppure pagare un prezzo che ricade tutto sulle loro spalle della procreazione, che è una grande cosa, è la creatività della vita, ma che nelle nostre società risulta un fardello pesante che pesa sulle spalle delle donne. Bene, questo è qualcosa che, diciamo, vive sotterraneamente, c'è un disagio che circola, nulla si percepisce perché fondamentalmente questo sembra ricadere in una sfera delle decisioni di carattere individuale, personale, mentre invece questa è una grande questione di politica, e dove appunto questo tipo di questioni non può essere affrontato né con i diritti. Ampliamo i diritti, oppure cerchiamo di difendere quello che è possibile difendere della famiglia tradizionale, ma si tratta di mettere in discussione questo e di capire che un altro ordine va a posto, dove davvero uomini e donne devono condividere, ma diventa una questione di carattere economico, una questione di carattere sociale, una questione di carattere politico, non è una questione che riguarda solo le donne, riguarda tutti. Se vogliamo, se il mondo vuole che la vita continui, e che la vita continui in maniera, con una prospettiva del futuro e non con pesantezza, bisogna affrontare questo, bisogna affrontare la questione che le donne e gli uomini devono poter accedere a tutti gli ambiti della vita sociale, pubblica, lavorativa, in condizioni effettivamente di parità. E nella parità, per quanto riguarda le donne, c'è la maternità, che va considerata non come un fardello, non come un peso, non come un handicap che pesa sulle donne, ma come una grande possibilità, ma questo comporta un mutamento sociale. Io qui mi fermo, perché si tratta di cominciare a vedere come la si affronta, sul piano economico, sul piano sociale, sul piano culturale. E anche questo sarebbe un altro convegno, però il suo messaggio forte è passato. Dire maternità, nominare questo e rompere un tabù, perché non se ne vuole parlare. Grazie, molto bello.